Che gli ha detto? Non sei buono a parlare spagnolo? Ah no. Ma capire che ho detto? Ho preso quel portiere che ha detto Vieni qua, lindas, hermosas, ponete a pecorinas. Ma pecorinas non si dice? Si 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 dice, ma capito se ho messo a pecorino. Ho detto pecorinas, si è posato con quattro zampe e ho detto che ho fatto sentire la presenza. Adesso che capace che ho fatto venire. Ti credo? Era un portiere? Perché hai fatto venire niente? Ah no. Quella si è messa ancora mi ha preso a me tutto muscolato. Guarda che roccia. Gli ha detto agale, agale dei pecorinas. Dai io va. Che aroma qua questo non mi fa vedere un cazzo. Vabbè va, fai mannare va.